E' iniziato il tempo ordinario, il tempo che ci invita a vivere la fede nelle scelte quotidiane, quelle di tutti i giorni, e la liturgia torna a vestirsi di verde. Non questo, questo, molto meglio. Il Vangelo di questa domenica ci racconta le nozze di Cana. Gesù è a una festa di nozze, un momento di gioia. Che bello pensare che il Signore è con noi non solo nel momento della fatica, del dolore, ma anche quando siamo felici. Lo cerchiamo quando abbiamo bisogno, ma dovremmo imparare a cercarlo sempre e a stare con Lui anche quando stiamo bene, quando siamo contenti. L'episodio delle nozze è l'inizio dei segni di Gesù. Gesù porta sulla tavola il vino nuovo. Ora noi lo sappiamo bene, è Lui stesso questo vino nuovo. È Lui questa nuova alleanza stabilita tra Dio e gli uomini. Questa nuova amicizia ci porta a sentire Dio vicino e presente nella nostra vita. Non più un Dio lontano, un Dio che va temuto, un Dio che se non fai bene le cose ti punisce. No, ma un Dio che ama profondamente ciascuno di noi ogni giorno. Allora fidiamoci di Gesù. Buona settimana.